Ancora il lavoro al centro della manifestazione dei disoccupati del Movimento 7 Novembre. Questa mattina a Napoli si tina avanti alla sede della Prefettura in piazza del Plebiscito per chiedere un tavolo interistituzionale che coinvolga governo, regione e comune. Ci veniamo qua a sollecitare qui la Prefettura e contemporaneamente anche il Comune e città neopropitana per quanto riguarda il problema lavoro, per far sì che oggi ci danno una data per tavolo interistituzionale. Un incontro che i rappresentanti del Movimento ribadiscono di aver sollecitato già nelle scorse settimane ed oggi hanno chiesto di conoscerne la data di convocazione. Siamo qui questa mattina ancora una volta a sollecitare alla Prefettura l'incontro che abbiamo chiesto settimane fa, un incontro interistituzionale con governo, città metropolitana, comune e regione. Siamo qui perché dobbiamo sapere la data e siamo in attesa di presentare il protocollo in cui ci dicano la data di questo incontro. I lavori e soprattutto maggiori certezze per il futuro dunque al centro della nuova manifestazione. Siamo qui per l'ennesima volta a dire sempre le stesse cose, ma i fatti e i risultati non arrivano mai perché è impossibile che le istituzioni, la regione, il comune non riescano a fare nulla per noi, è impossibile. Nessuno ci risponde, nessuno ci dà, non dico certezze immediate, ma almeno certezze future prossime. Vogliamo lavorare, è composto di lavoro in una busta paga per le nostre famiglie.